Ehi, cosa fai? Dove vai? Beh, se pensi e vuoi dare un vero segnale, devi iniziare a camminare. Se vuoi sentirti un cittadino attivo, beh, cammina alla velocità che vuoi, ma è importante, incontriamoci all'arrivo. Incontriamoci all'arrivo. Allora, il 19 maggio incontriamoci all'arrivo. Incontriamoci all'arrivo. Incontriamoci all'arrivo. Ti so dire come fare se ti va di camminare. Se ti vuoi sentire vivo, incontriamoci all'arrivo. Anche quest'anno incontriamoci all'arrivo. Il 19 maggio camminiamo tutti insieme, ma è importante, incontriamoci all'arrivo. E allora, incontriamoci all'arrivo. Mi raccomando, partecipiamo tutti. Il 19 maggio incontriamoci all'arrivo. Forza, 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 incontriamoci all'arrivo. Camminare insieme è un grande gesto di democrazia. Mi raccomando, incontriamoci all'arrivo. No. Incontriamoci all'arrivo. No. Ti aspettiamo, incontriamoci all'arrivo. Il 19 maggio incontriamoci all'arrivo. Incontriamoci all'arrivo. Ragazzi, vi ricordo che il 19 maggio c'è una manifestazione molto importante. incontriamoci all'arrivo. Cercate di partecipare e di darvi da fare, perché è veramente importante. Grazie e buona giornata a tutti voi. Il 19 maggio incontriamoci all'arrivo. Grazie. 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 Grazie.